Sì. Bene, avete per caso imparato qualche nuova parola da scrivere? Io sì, io sì. Tu sì? Ho imparato aiuola. 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 Interessante. Aiuola. Prova a scriverla. Non c'è problema. Mi piaceva. Sono bravissimo. Aiuola. Ma con quante idea scrive aiuola? È aiuola. Ma forse solo quello, l'h cosa c'entra? Mi piaceva. Per chiudere la frase magari, per chiudere la parolina. Esatto. Io non ho più parole, bimbi. Vediamo se dico va meglio. Ma temo, temo, temo. Quanto temo. Dove mi c'è una parola invece? Mr. B, vediamo. Io uso il mio penarello. No, 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 no. Il mio scrive meglio. E poi il mio scrive correttamente. Vediamo, vediamo. Acquarello. Acquarello. Se riesce a... Aspetti, aiuto o no? A. A. Q. U. A. Vieni qua. Va bene che l'altra volta abbiamo provato un pochino a studiare le doppie. Ma doppie vuol dire due. Qua quante ce ne sono? Avete abbondato troppo. Sono troppe. Prestami il pennarello. Ecco. A. I. U. T. O. Qua sì che ce ne vogliono tante, bimbi. Ma si scrive così, aiuto. Venite ad aiutarmi. A. I. U. T. O.